Una moda del momento è vivere sopra le proprie aspettative, quanto racconta della nostra realtà questo aspetto del film? Domanda per tutti. Beh sì, diciamo che il primo atto del film parla di questo, cioè parla di un uomo che come succede spesso oggi e i social diciamo che mettono una lente di ingrandimento su questa cosa, è un uomo che vuole vivere sopra le aspettative e quindi fa spese che non si può permettere, va a feste che non sono il suo ambiente e questo ovviamente poi ha delle conseguenze. E quindi sì, diciamo che, non so se si può dire, però le icone di questo oggi può essere il social, può essere Instagram e seguendo i cliché delle città italiane, la città più iconica riguardo a questo è Milano e la scena della festa rappresenta questa cosa qua. E il percorso, l'arco di trasformazione del personaggio riguarderà proprio l'abbandonare questo tipo di esigenze per qualcosa di più profondo e di più legato alla sua storia, alle sue radici. Qual è il rapporto con i social che avete anche voi? Cioè la soffrite un po' questa cosa? Guarda, è beccato tre proprio, allora io calcola che tra i due io sono la Ferragni, ti dico, e pubblico quando mi ricordo, per dire, lui non ha niente, credo. Io non capisco niente. Lui non ha, non sa. Però vivi meglio, no? Senza i social. Vivi meglio? Senza i social? Insomma, alla fine insomma, che mia figlia, che magari gli chiedo, senti, devo fare questa cosa qui al telefonino? Insomma, dice, ecco, impara, insomma. No, ma lui, no, ma gli mandi un messaggio e non ti risponde. Dice, no, ma tu rispondi, no, no, se lo rispondo, no, lui zero. Social zero. Io sono un utilizzatore più volto a guardare che a comunicare, però ogni tanto posto anch'io. È sempre un po' imbarazzante, devo dire, non mi sento mai a mio agio, però devo dire che è una cosa che a questo punto va fatta, soprattutto se fai un certo mestiere. E quindi mi sto educando al social. Esatto, io tra i due sono appunto la Ferragni, perché tra i due invece io posto cose, allora, no, io però rispetto alla media, diciamo, non posto tantissimo, molto per lavoro. Io posto cose di lavoro, ai cani, adozioni di cani, le uso per far cercare adozioni che sono canara patologica. Però sto imparando anch'io, perché mi rendo conto che per il lavoro lo devi saper utilizzare.